Ciao Millie, sono sempre qui a Rimini per il campionato italiano, trovo tanti fans di Ballando con le Stelle e tanti fans tuoi, guarda un po'. Ciao Millie, e cosa ti volete dire? Di casetta. Da casetta, guarda che c'è tutta Italia qua, e hanno fatto il primo posto oggi, due primi posti. Il coreografato e il finalizzato. Bene bene, grazie a dopo, ciao ciao.